Eventi, degustazioni e fondi per il restauro dei sette dormienti. Serata all'insegna della cultura d'Angri con lo spettacolo di Gianluigi Esposito. Per cercare di sensibilizzare i angresi per la restaurazione delle statue dei sette dormienti ad Angri. Straordinaria serata quella offerta gratuitamente dal Centro di Cultura per il Teatro e la Canzone Napoletana di Gianluigi Esposito che si è tenuta presso la Pinacoteca del Castello Doria. Un'iniziativa lodevole con l'obiettivo di una raccolta fondi da destinare al restauro dei sette santi dormienti. L'appello per un risveglio artistico dell'opera è stato lanciato dall'Associazione Panacea che si occupa del recupero dei beni artistici e culturali della città di Angri. La serata, che ha visto protagonisti la musica e l'arte, si è arricchita con la presentazione del primo ed emozionante reportage realizzato da Angri TG a cura di Gianfranco Parlati. Anche il sindaco Pasquale Mauri si è sensibilizzato insieme a tutta l'amministrazione ad intraprendere ed organizzare un evento all'insegna della degustazione per poi devolvere tutto al ripristino di quest'opera unica in Italia. Standing ovation del pubblico per l'esibizione di Gianluigi Esposito dell'orchestra diretta dal maestro Saturno che hanno deliziato i presenti con le più belle melodie della nostra Napoli. La storica sala del Castello Doria, allestita con eleganti tavoli e sedie, ha colto caldamente gli invitati che hanno degustato le prelibatezze dei prodotti tipici salernitani dell'azienda agricola Polito di Agropoli, mentre il servizio è stato gestito dall'Ipsar di Pagani. Il sindaco ha mostrato grande interesse per il reportage, dichiarando che farà il possibile per farlo diventare patrimonio artistico della città. Un'altra cosa è di vedere come farlo diventare patrimonio comunale dell'amministrazione. Quindi già ho parlato con qualcuno per verificare quali sono i percorsi da seguire per farli entrare nella proprietà della nostra città. Tutto quello che ha detto il professore era stato prodotto su questo video da Gianfranco, purtroppo per i guidi tecnici non è stato possibile, però credo che anche se a bassa voce il professor vi ha fatto capire un po'. L'assessore Anna Maria Russo, invece molto attenta e sensibile all'iniziativa, ha detto che presto si organizzerà un'altra serata in cui sarà proiettato il reportage per renderlo visibile ai cittadini. Sì, per proiettare questo e vedere tutta la storia dei sette dormienti. Il reportage di Angry TG è stato interamente dedicato ad una persona speciale, Lello Parlati, la cui forza si ritrova nella passione con cui lo stesso reportage è stato realizzato.